Buongiorno a tutti! Prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato e non perderti nulla. Infine ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. La genialità di Nikola Tesla. Curiosità e storie inedite. Nikola Tesla nacque il 10 luglio a Smiljan, un villaggio dell'attuale Croazia. Figlio di un prete ortodosso serbo e di una madre inventrice, mostrò fin da subito un'intelligenza straordinaria e una memoria prodigiosa. Durante l'infanzia, Tesla sviluppò una forte curiosità per i fenomeni naturali. Affascinato dall'elettricità, spesso osservava temporali e fulmini, immaginando come poterli controllare. Questo precoce interesse scientifico lo spinse a esplorare e sperimentare. Dopo aver completato gli studi primari, Tesla si iscrisse al Politecnico di Graz in Austria. Qui si dedicò allo studio dell'ingegneria elettrica, impressionando i suoi professori con le sue capacità analitiche e la sua dedizione instancabile. Mentre studiava a Graz, Tesla concepì l'idea del motore a corrente alternata. Notando le limitazioni dei motori a corrente continua, lavorò su un sistema che potesse sfruttare meglio l'energia elettrica, gettando le basi per future scoperte. Dopo aver lasciato Graz, Tesla si trasferì a Budapest, dove incontrò Tivadar Puskas. Questo incontro fu cruciale, poiché Puskas introdusse Tesla alla telegrafia e agali sviluppi delle comunicazioni, influenzando profondamente il suo percorso professionale. Arrivato a Parigi, Tesla si unì alla Continental Edison Company. Immediatamente si distinse per la sua abilità e innovazione, lavorando su miglioramenti ai generatori e motori. Qui maturò ulteriormente le sue idee sulla corrente alternata. Nonostante il successo in Europa, Tesla decise di emigrare negli Stati Uniti. Sognava nuove opportunità e un ambiente più favorevole alle sue invenzioni. Con grande determinazione partì verso New York, lasciando tutto dietro di sé. Nel cuore vibrante di New York incontrò Thomas Edison. Questo incontro segnò l'inizio di una breve ma intensa collaborazione. Tesla sperava di trovare un mentore e un alleato, ma presto le loro visioni si scontrarono. La collaborazione con Edison fu breve e tumultuosa. Le loro divergenze su corrente continua e alternata portarono a un conflitto inevitabile. Tesla, deluso, lasciò Edison e iniziò a cercare finanziamenti per i suoi progetti indipendenti. Deciso a perseguire le sue idee, Tesla fondò la Tesla Electric Light and Manufacturing. Qui poté finalmente lavorare liberamente sulle sue invenzioni. I suoi primi successi furono brevettati, gettando le basi per il suo rivoluzionario sistema di corrente alternata. Tesla ottenne molti brevetti per il suo sistema di corrente alternata, rivoluzionando la trasmissione di energia elettrica. Le sue innovazioni permisero di distribuire energia su lunghe distanze, superando i limiti della corrente continua di Edison. La collaborazione tra Tesla e George Westinghouse fu decisiva per la diffusione della corrente alternata. Westinghouse riconobbe il potenziale delle invenzioni di Tesla e investì nel loro sviluppo, permettendo di realizzare una rete elettrica più efficiente. La guerra delle correnti vide Tesla e Edison contrapposti. Edison promuoveva la corrente continua, mentre Tesla dimostrava la superiorità della corrente alternata. Il confronto culminò con la vittoria del sistema di Tesla, adottato globalmente. L'illuminazione della Fiera Mondiale di Chicago del 1893 mostrò al mondo i vantaggi della corrente alternata. Tesla e Westinghouse illuminarono l'intera esposizione, dimostrando l'efficacia e la sicurezza del loro sistema elettrico innovativo. Il progetto della centrale idroelettrica alle cascate del Niagara fu un trionfo per Tesla. La centrale sfruttava l'energia dell'acqua per generare elettricità, diventando un simbolo del potenziale illimitato delle sue invenzioni. Tesla esplorò le onde radio, aprendo la strada alla comunicazione senza fili. Nell'1898 presentò un innovativo sistema di radiocontrollo, controllando un piccolo battello a distanza. Questa dimostrazione segnò un passo fondamentale nella storia delle telecomunicazioni. A Colorado Springs, Tesla condusse esperimenti enigmatici sul trasferimento di energia senza fili. Costruì una gigantesca bobina per generare scariche elettriche spettacolari. Questi esperimenti gettarono le basi per la futura trasmissione di energia e la radio. La bobina di Tesla, un dispositivo che produceva alta tensione a frequenza elevata, divenne una delle sue invenzioni più celebri. Utilizzata ancora oggi in vari campi, simboleggia l'ingegnosità e la visionarietà del grande inventore. Tesla immaginava un mondo con energia trasmessa senza fili. La sua visione era quella di alimentare intere città senza l'uso di cavi, un sogno che ancora oggi ispira la ricerca tecnologica nel campo dell'energia. La Wardenclyffe Tower, il progetto più ambizioso di Tesla, doveva realizzare la trasmissione globale di energia senza fili. Nonostante le difficoltà finanziarie che portarono alla sua demolizione, l'idea di Tesla continua a affascinare gli scienziati moderni. Le difficoltà finanziarie di Tesla crebbero con il tempo, portando alla caduta della Wardenclyffe Tower. Nonostante l'ambizioso progetto, l'assenza di fondi fece crollare il sogno di trasmissione senza fili di energia. Tesla studiò la risonanza e riuscì a creare un terremoto artificiale. Utilizzando un piccolo dispositivo, provocò vibrazioni che scossero il suo laboratorio, dimostrando il potere della risonanza meccanica. Tra le invenzioni meno conosciute di Tesla c'è l'oscillatore meccanico. Questo dispositivo generava vibrazioni potenti, che Tesla sperava potessero avere applicazioni pratiche in vari settori, inclusa la produzione di energia e la costruzione. Tesla aveva una visione futuristica del wireless, immaginando un mondo interconnesso senza fili. Credeva fermamente che l'energia e le comunicazioni potessero essere trasmesse ovunque, cambiando per sempre il modo in cui le persone si relazionano. L'incontro con Mark Twain segnò l'inizio di una profonda amicizia. Twain, affascinato dalle invenzioni di Tesla, trascorreva ore nel laboratorio dello scienziato, trovando ispirazione e supporto reciproco nelle loro conversazioni. Tesla contribuì significativamente alla tecnologia moderna con l'invenzione del telecomando. La sua idea di controllare dispositivi a distanza ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con la tecnologia, aprendo la strada a numerose applicazioni odierne. L'interesse di Tesla per la robotica e l'automazione fu pionieristico. Prevedeva un futuro in cui le macchine avrebbero eseguito compiti ripetitivi, migliorando l'efficienza e la sicurezza. Le sue idee influenzano ancora oggi lo sviluppo tecnologico. Tesla esplorò teorie sulla comunicazione con altri pianeti, immaginando la possibilità di inviare segnali radio nello spazio. Sebbene queste idee fossero visionarie, dimostrano la sua curiosità inesauribile e il desiderio di spingere i confini della scienza. Negli ultimi anni a New York, Tesla visse in solitudine e povertà. Nonostante le difficoltà, continuò a lavorare e a sperimentare, rimanendo fedele alla sua passione per l'innovazione fino alla fine dei suoi giorni. L'eredità di Tesla è immensa e le sue innovazioni sono state riconosciute costume. Le sue idee visionarie continuano a ispirare scienziati e ingegneri, cementando il suo posto nella storia come uno dei più grandi inventori di tutti i tempi. Se ti è piaciuta la storia di Nikola Tesla, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta, il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.